Buon venerdì 12 novembre. Il testo sacro ci offre uno sguardo alla vita caratterizzato da un passaggio fondamentale. Indipendentemente dall'essere credenti o non credenti, il Vangelo in più punti ci ammonisce a essere disponibili, a perdere la vita per avere la vita eterna, a non trattenerla perché se la tratteniamo la perdiamo. È un passaggio che sembra quasi paradossale ma che da un punto di vista antropologico rappresenta un punto fermo dell'esistenza e della vita stessa. Noi siamo sottoposti costantemente al fluire del tempo, non possiamo fermarlo, fissarlo. Il tempo non si ripete ma divora ogni cosa. Tutto ciò che il tempo ha divorato non potrà più ripresentarsi. Quando noi abbiamo l'impressione che ciò che accade oggi è esattamente nient'altro che la fotocopia di ciò che è accaduto ieri, pensando a una ciclicità ripetitiva, facciamo un errore di impostazione dell'esistenza. Dobbiamo lasciarci andare al fluire del tempo senza nulla trattenere perché quell'invito evangelico a non trattenere la vita significa sostanzialmente non porci antropologicamente in una dimensione di possesso, di dominio, ma è un invito alla appartenenza nella cooperazione nel fluire del tempo. Questo è il fondamento dell'ecologia che ci apre alla sorpresa, allo stupore, alla meraviglia, ad abbandonare la nevrotica attesa di realizzazioni che abbiamo immaginato, costruito a tavolino, spendendo inutilmente il tempo trattenendolo per far sì che nella istantaneità del nostro vivere si realizzi la vita eterna, perché questa è la grande contraddizione che ci caratterizza. Abbiamo certamente un compito fondamentale, quello del conservare, ma conservare significa non possedere, significa delicatamente avere rispetto di ciò che esiste, non desiderare di possederlo, perché conservare è un atto di generosità nei confronti di ciò che non è nostro e che non potrà mai essere nostro. Noi abbiamo una tendenza ancestrale a possedere la terra, a possedere l'altro, a fissare nella relazione degli obiettivi che soddisfano semplicemente i nostri desideri. Non riusciamo mai a porci nella realtà, in una cooperazione senza alcun desiderio di possesso, anzi il possesso mortifica il desiderio. Lacan diceva che il desiderio si infrange nell'atto, passaggio molto astruso per certi aspetti. Parlava della dimensione dell'amore, della sessualità. Se il desiderio nella sessualità coincide con una rappresentazione del godimento, come qualcosa di prefissato, di immaginato, di costruito, attraverso i sistemi culturali, in attesa che accada qualcosa, questo impedisce qualsiasi dimensione dell'abbandono e attraverso questa rappresentazione della sessualità inevitabilmente accadono i disagi legati alla sessualità. Ci siamo apparentemente liberati dal tabù del sesso, in realtà abbiamo moltiplicato oltremisura le insoddisfazioni relative proprio al sesso e anche i sistemi economici alludono costantemente, in maniera subdola, a immagini erotiche che evocano potenza, godimento, realizzabile attraverso il dominio e il possesso. Allora, se vogliamo approssimarci alla questione dell'ecologia e della salute mentale, che non può mai eludere, la questione dell'affettività, dei sentimenti, delle emozioni, dell'incontro tra i corpi nella ricerca di un piacere che non siamo noi a costruire, ma che sorge nella relazione tra i corpi. Se abbiamo un obiettivo prefissato non accadrà mai e saremo destinati a una sorta di anedonia insoddisfatta, una assenza di dimensione del piacere della vita, che non è fruibile soltanto nei momenti nei quali ci sentiamo particolarmente giovani, ricchi, benestanti. Anche nel tempo della difficoltà e della tragedia, noi possiamo vivere intensamente la dimensione dell'amore dell'incontro dei corpi. Abbiamo un'epoca che ha mercificato tutto, ma vedete, la mercificazione del tutto non significa soltanto la mercificazione dei corpi, ma soprattutto la mercificazione del tempo, la quantificazione. C'è un tempo senza qualità, perché è sempre in attesa che qualcosa accada. Oppure con lo sguardo fissato all'indietro diventiamo semplicemente delle statue di sale che si rambaricano per il passato o hanno nostalgia di quel passato. Non riusciamo a vivere l'attimo del presente, quel tratto infinitesimale rispetto allo scorrere del tempo che caratterizza non solo la vita nel nostro pianeta, ma la vita nell'universo. E allora lasciamoci andare il tempo che scorre per vivere intensamente l'abbandono nell'ecologia che ci riserverà soltanto sorprese. Questo non significa abdicare dalla responsabilità, la responsabilità legna sovrana e ci permette di essere attenti nei confronti della vita stessa, non cadere mai nella trappola della manipolazione. La scienza stessa, quando si trasforma in idolatria, in religione, in dogma, ha a cuore soprattutto questa immagine di diventare il Dio creatore che pone mano a un tempo infinito, cerca di bloccarlo, di fissarlo, cerca di garantire l'eternità quando la scienza è applicata alla condizione biologica della vita, cerca di trattenere la vita, non di qualitativamente conservarla accettando che lo scorrere del tempo ci ponga nel divenire, piuttosto che nello stare, perché nello stare c'è solo lo stigma, c'è la diagnosi, c'è la rappresentazione di noi stessi come non trasformabili, diventiamo come sono rappresentati gli alcolisti, cronici e recidivanti, rimediabili e rasserenati e rassicurati, ma tristemente rasserenati e rassicurati, svolgiamo la nostra esistenza lungo un percorso che non è più capace di cogliere la sorpresa dell'evolvere, ma l'evolvere accade comunque sempre, indipendentemente dalla nostra volontà, e qui c'è un altro punto molto importante che segna la dimensione antropologica dell'ecologia. Anche qui c'è un atto di abdicazione nei confronti di una nostra volontà sovrana, che volebbe forgiare l'esistenza. Allora che cosa possiamo fare nei tempi della crisi individuale, di coppia, familiare, politica, sanitaria? Semplicemente sostare per un attimo e meditare, trascendere ciò che accade sapendo che tutto si evolverà, poterà, ponendoci con rispettoso atteggiamento nei confronti della vita, del vivente, della nostra casa che abitiamo, che non è quella anagrafica, è quella esistenziale, quella è l'oicos dell'ecologia, la casa dell'esistenza umana, alla quale transitorialmente apparteniamo, ma che fluirà nel corso delle generazioni. Cambia pertanto la prospettiva, nei confronti della tutela e della promozione della salute, nei confronti del rapporto con l'altro, nel rapporto con i nostri corpi, nel rapporto con le generazioni che vengono dopo di noi. non tratteniamo, lasciamoci andare a questo fluire del tempo e cogliamo il magico mistero del rapporto che intercorre tra piacere e morte, una morte che non è mai definitiva e ci porta a sentirci parte costituente di una vita che si sviluppa nel corso di una eternità e in uno spazio infinito. Ecco, se noi riusciamo a vivere questo intensamente e non viviamo ossessionati dall'idea di poter fermare il tempo, lo facciamo scorrere, anche se divora tutto, ecco che allora, magicamente, potremo vivere intensamente anche i rapporti affettivi nella dimensione della gioia, del piacere, pur nei momenti difficili delle nostre esistenze. Vedete l'ecologia sociale antropo-spirituale, quella ecologia che dobbiamo costantemente esplorare e che sicuramente non riusciremo mai a possedere fino in fondo in termini di conoscenza. Quell'ecologia ci sposta, ci proietta verso la sobrietà, anche questa è una condizione che non raggiungeremo mai, ma è un punto costantemente mobile posto nello spazio infinito che ci spinge a camminare. essendo capaci anche di astenerci da qualcosa, non in termini sacrificali, ma come esempio di saper rinunciare, di saper perdere, perché la perdita è la precondizione attraverso la quale ci liberiamo dal fardello del possesso e la nostra coscienza fluisce libera, aperta e disponibile a sviluppare la dimensione del piacere anche nei momenti di difficoltà. Buona giornata a tutti.